Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Chi ha già fatto il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa precauzionale. I vaccini restano l'arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili. A dirlo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Quando emergono fatti nuovi, come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare la fiducia dei cittadini, ha detto. Ieri su indicazione dell'AIFA è stata sospesa in via precauzionale la somministrazione di vaccini AstraZeneca. Ciò a seguito del sequestro di un nuovo lotto del Siero, disposto dalla Procura di Biella dopo il decesso di un docente al cui era stato inoculato il vaccino. 10.100 le dosi del lotto in questione consegnate alle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia, 7.000 delle quali già somministrate. Ora i governi, ha detto il Corriere e il Ministro Speranza, attendono il giudizio dell'EMA per giovedì e siamo fiduciosi che possono emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto avere cautela. E la Guardia di Finanza di Pordenone ha denunciato sei persone per bancorotta fraudolenta, reati fiscali e evasione che hanno riguardato un'azienda pordenonese del settore edilizia fallita nel 2018. Un buco di oltre 3 milioni di euro aggravato da illecite operazioni finanziarie. Un buco milionario che ha riguardato una società pordenonese del settore dell'edilizia fallita nel 2018 è al centro di un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che ha denunciato sei persone per bancorotta fraudolenta e reati fiscali, rilevando anche numerose violazioni alla normativa antiriciclaggio. Nel corso dell'attività di indagine, coordinata dalla Procura di Pordenone, sono state accertate distrazioni per quasi 2 milioni di euro e imposte vase per 800 mila euro, in porto per il quale è stato disposto il sequestro per equivalente eseguito dalle fiamme gialle sui beni finanziari a disposizione dei responsabili dei reati, il che ha consentito di ristorare lo Stato per l'evasione fiscale. Il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria ha scoperto che i quattro amministratori della società, succedutesi nel tempo e altri due soggetti che gestivano de facto l'impresa, avevano determinato un aggravio del dissesto pari a circa 3 milioni di euro, compiendo operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento della società, astenendosi dal chiederne il fallimento con grave colpa, oltre ad aver ottenuto, durante i tre anni antecedenti, i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge in maniera irregolare e incompleta. Gli indagati avrebbero anche effettuato pagamenti ad altre società da loro stessi controllate per un valore di 120 mila euro. Nel corso delle indagini sono stati anche rilevati diversi trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati, oltre la soglia massima stabilita dalla normativa antiriciclaggio per complessivi 44 mila euro, condotte che a fronte di un buco di oltre 3 milioni di euro hanno consentito di svuotare l'azienda su ogni assetto, a discapito di decine di aziende e persone creditrici. Uno degli amministratori della società è stato denunciato in quanto, a seguito di una condanna emessa nel 2015 dalla Corte d'Appello di Venezia per fatti specie simili, era stato sanzionato con la pena accessoria, della durata di 10 anni, dell'inabilitazione dell'esercizio di un'impresa commerciale, dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prescrizione del tutto ignorata, avendo nuovamente avviato la gestione con la medesime illecite modalità nell'azienda pordenonese. E ora andiamo a Muffalcone dove è stata fermata nelle ultime ore una nave nel porto per gravi irregolarità riscontrate dalla guardia costiera è avvenuta dopo lo sciopero indetto dall'equipaggio che hanno portato gli ispettori ad emettere il provvedimento amministrativo di fermo. In particolare la Capitaneria di Porto di Muffalcone ha rilevato 17 deficienze, delle quali 11 particolarmente gravi attinenti sia aspetti strutturali che problematiche relative alle condizioni di vita a bordo. La carenza riscontrata riguardano in generale la sicurezza della navigazione, l'antinquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo. Con l'attuale detenzione sargono due le navi fermate nel dipartimento marittimo di Muffalcone perché considerate pericolose per la sicurezza della navigazione. La seconda è stata detenuta a Porto Nogaro solo due settimane fa. Controllato dalla polizia locale poco dopo le 7 di questa mattina il bar di Tavagnaco perché no è stato trovato con una ventina di clienti che consumavano bevande acquistate poco prima per asporto sia all'interno del pubblico esercizio che sulla scalinata di accesso. Gli avventori sono stati allontanati dagli agenti del locale di Tavagnaco che hanno sanzionato il titolare per 400 euro cui è aggiunta la sanzione accessoria della chiusura per 4 giorni. Resta aperto il tabacchino. Due ventenni di Trieste sono stati sanzionati dai carabinieri di Villa Piccina questa notte perché trovati fuori casa durante il coprifuoco senza giustificato motivo. Hanno detto di essere usciti per andare a prendere sigarette e fare un giretto. Sono stati sanzionati ed è stata elevata anche una contravenzione perché l'auto su cui viaggiavano era senza assicurazione. Con l'entrata in vigore della zona rossa serrande abbassate anche per i parrucchieri una categoria che in precedenza aveva potuto lavorare e non si aspettava questo stop. Con l'ingresso in zona rossa si sono abbassate anche le serrande dei parrucchieri che in precedenza avevano sempre potuto lavorare anche nelle aree interessate dalle maggiori restrizioni. La scorsa settimana è stata una corsa all'ultima messa in piega o alla sistemata ai capelli. Poi con domenica, per chi ha lavorato sfruttando la deroga, è calato il sipario. Gli stori con i codici a teco ci hanno dato solo un anno fa i 600 euro in due tranche e adesso per adesso non si sa ancora. Io lavoro e porto a casa uno stipendio ma solo io lavoro per mia moglie a fare la casa riga e quindi è un problema grosso. Una situazione complicata per la categoria che pure ha sempre garantito il massimo della sicurezza ai clienti. Mascherini, dispositivi, le distanze di sicurezza, al posto di fare 30 clienti ne fai 15. Cerchi insomma di essere il più bravo possibile a cercare di mantenere le distanze eppure anche niente. Tutto questo è inutile. Un cliente alla volta ogni 40 minuti pur di mantenere le giuste misure eppure non è servito a niente. Nuovo bando per il sostegno degli studenti, delle studentesse in difficoltà con l'erogazione di misure di contributi per l'acquisto di hardware e la fornitura di una scheda sim semestrale da 100 gigabyte al mese. L'ho aperto oggi l'Università di Udine in concomitanza con il passaggio obbligato di tutta l'attività didattica in modalità a distanza. Si tratta di un impegno che avevamo preso lo scorso anno. Ha sottolineato il rettore Roberto Pintone davanti al peggiorare della situazione epidemiologica. Abbiamo ritenuto di accelerare le procedure in modo da essere tempestivamente operativi. Perde il controllo dell'auto e finisce contro il garrè l'incidente ieri sera sulla statale 202 vicino all'uscita del molo 7 Trieste. Sul posto è vigile del fuoco, un'ambulanza che ha soccorso il conducente e un passeggero portati in ospedale in condizioni non gravi. Nell'abitacolo c'era anche un cane preso in carico dai pompieri e quindi da un cino vigile, rilevi della polizia locale. Infortunio domestico ieri sera a Donia, un uomo di 58 anni che stava cucinando la cena della sua abitazione, è stato raggiunto al volto da un ritorno di fiamma. L'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale di Tolmezzo, non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili fuoco di Tarviso e i carabinieri di Moggio. I tralicci della media tensione uccidono un grifone, simbolo della riserva naturale del lago di Cornino. Il mondo scientifico e politico invoca immediati interventi risolutivi, mentre l'amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli convocherà a breve i gestori della linea. Uno splendido esemplare di grifone adulto, simbolo della riserva naturale regionale del lago di Cornino, i cui esperti monitoravano e studiavano da una quindicina d'anni, è morto molto probabilmente nella giornata di domenica, per essersi posato sul traliccio della media tensione. A segnalare il fatto è stata una residente di Somcornino che ha individuato la carcassa negli spazi verdi attigui al suo cortile a nulla e valso l'immediato intervento della squadra di recupero della riserva. Molto probabilmente in maltempo le forti raffiche di vento hanno contraddistinto la mattinata di domenica scorsa e hanno indotto l'animale a posarsi proprio sul traliccio della media tensione, provocandone la morte per elettrocuzione, spiega il direttore scientifico della riserva del progetto grifone, professor Fulvio Genero. Il mondo scientifico e politico invoca immediati interventi risolutivi, mentre l'amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli convocerà a breve i gestori della linea. È il decimo esemplare morto per lo stesso motivo. Purtroppo, aggiunge Genero, questo decesso incrementa i dati della strage che i tralicci provocano fra gli avoltoi, tutta la vifauna di grossa taglia. Si tratta della principale causa di morte, insieme all'avvenenamento da piombo legato al consumo di resti di origine venatoria. Chiude in leggero utile, nonostante il Covid-19, il gruppo Eurotech, la multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce edge computer e soluzione per l'Internet of Things, anche se la pandemia pesa sul capogruppo Eurotech S.P.A. Il CDA ha approvato il bilancio consolidato che ha chiuso il 2020 con ricavi a 69,3 milioni di euro, meno 32,1%. La capogruppo Eurotech S.P.A. invece ha chiuso con una perdita di 3 milioni. L'amministratore delegato Roberto Siagri ha sottolineato che il 2020 è stato un anno difficile che ha fermato temporaneamente la crescita, evidenziando però che il risultato finale è senza perdite, confermando la strategia di business. La pandemia ha affermato non potrà che accelerare il processo di digitalizzazione e di rinnovamento delle imprese e con il ritorno ad una nuova normalità, tutti ci aspettiamo un'accelerazione degli investimenti nel controllo remoto e nell'operazione a distanza e conseguentemente contiamo di trovarci nella posizione di poter esprimere al meglio tutto il potenziale accumulato in questo ambito. E ora andiamo a Udine, nel tratto nord di via Gemona, cominceranno il 22 marzo i lavori di rifacimento del fondo in Porfido. Condizioni meteorologiche permettendo dovrebbero concludersi l'8 maggio. Il sottofondo sarà realizzato in misto cemento e una volta finita la posa le fughe saranno sigillate con la resina, sistema già sperimentato in altre vie della città. I pedoni potranno transitare dopo due giorni dalla chiusura del cantiere, mentre per le auto sarà necessario attenderne sette. Il comune informa che durante i lavori i bidoncini della raccolta differenziata potranno essere posizionati a monte o a valle delle chiusure, mentre ai titolari di posto auto in area privata, i quali a causa del lavoro avrà impedito l'accesso al proprio passo o carraio, verrà fornito un pass temporaneo per la sosta gratuita nelle zone blu di Mitrofe. L'opera del costo di 664 mila euro prevede anche il rifacimento del Porfido in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e l'incrocio con via Gorghi e via Piave in via Grazzano, nel tratto compreso tra via della Cisterna e piazza Garibaldi, a concludere tra fine estate e inizio ottunno in via superiore tra via Leic e via Villalta. Siamo in chiusura ma subito dopo la pubblicità appuntamento con a voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.